Ciao Sofì! Ciao Lu! Ma non è ancora arrivata la maestra! Beh, allora ci possiamo accomodare! Allora, lo zaino e tiriamo fuori il materiale scolastico! Quaderno... Ciccia, per no, alla cua, volete! Sì, mamma! L'ho già fatta la pipì! Non mi pisce addosso! Ok? Ciao, mammi! Oh! E tu chi sei? Come ti chiami? Qualchie di lei? Quanto sei alta! Ma non ti c'è niente! Ma è avuta! Andrina, calmiamoci! Allora, te la devo presentare! Ah, ok! Non è una bambola, è viva! Sediamoci, innanzitutto! Va bene! Allora, però, intanto, vi saluto, estrellitas! Hola, estrellitas! Io sono Sofì e Moni oggi non c'è! Ma con me oggi c'è Lu e Andrina! E siamo al... Caledas Luna! Oggi tiriamo un video... Amici versus... Nemici! Yeah! E ricordatevi di iscrivervi al canale! Se no, il ciccio me lo piange! E dopo di che, cliccate la campanella di Indlon! Ciao, estrellitas! La mia vita è la sirena! Direttamente in libreria, oppure puoi preordinarlo su Amazon! Link in descrizione! Besitos! Che bello essere con le mie amiche a scuola! Sì, così la lezione è meno noiosa! Possiamo aiutarci! Tutte assieme! Una per tutte! Tutte per una! Ma che bello che hai il tuo outfit! Grazie, ma le tue traccine sono fantastiche! Grazie! Che bello che hai il tuo grembiolino! Ti piace? A me piacciono tanto i tuoi occhiali! Grazie! Sì! Ma che bello! Il tuo elastice per i capelli! Ti piacciono? Le ho trovati le patatine! Le ho trovati! No, ma tu sei la più bella di tutte! No! No, no! Anche tu c'è il più bello! Anche per le belle belle, tu! Grazie! Voi siete le più belle! Voi siete le più belle! No, voi due! No, voi due! Voi due! Voi due! No, voi due! Siamo i migliori amiche! Per sempre! Ancora un altro giorno con queste due! Non ce la posso fare! Ha parlato un'isempatia! Ma queste due le puzzano la scella! Che schifo! Stai zitta, biondina! State zitte voi! Prendilo, sai il coraggio! Ma che cosa stai facendo? Ah! Sembrino da prendere i rossi! No, no, via via! Fatte le scella! Lascia! Oh, mi secchiona! Gritate sempre, gritate! Oh! Ma che buzza! Ma chi è che l'ha sganciata? Ma come ti permetti che dice o sa che lo faccio? Io! Io sono stata io con un pozzino! Che schifo è il tuo piede di buccano! Vai! Non te li avrei lavati dalla settimana! Queste due puzzano come due mucche uscite appena dalla stalla! Ah, ma mi stavo dimenticato! Lasciate un like se questo video vi sta piacendo! Beh, magari anche due, tre! Due? Ma i like sono gratis! Ne voglio di più! Ne voglio 500.000! Un milione! Per potremmeno io non vengo più qua! Va bene? Ma Lu, tu hai fatto i compiti di matematica? Compiti di matematica? Ma non erano quelli di geometria? C'erano anche quelli di matematica! Oh no! Ehm, ti faccio copiare Lu! Vai! Guarda! Sì, sì, grazie! Ma non ho portato la penna! Te le do io la penna! Grazie! Adesso copio tutto, eh! Vai, vai! Ehi, ragazze! Ma voi non avete letto il libro che ci ha segnato la maestra? La Flunas e la mia vita da sirena? Ehm, io no! Io sì, invece! L'ha letto la mia mamma per me! È bellissimo! Dovete prenderlo anche voi! Beh, io non l'ho letto! Perché mia mamma mi ha fatto pulire la mia cameretta! Ed non ho avuto tempo di finirlo! Se anche un po' l'ho letto e fino al punto che sono arrivata è bellissimo! E se la maestra mi fa le domande sul libro, io che cosa faccio? Ma tranquilla! Ti aiutiamo io e Andreina! Sì, sì, ti aiutiamo! Grazie! Non ho fatto i compiti di matematica! Vabbè, mi fai copiare, vero? Neanche nei miei sogni! Andreina? Sì, cosa c'è? Mi fai copiare i compiti di matematica? Ma neanche, guarda! Devi studiare, altrimenti rimani ignorante! Che belle compagne di classe che ho! Non mi aiutano neanche morte! Sarai bella tu! Lo so! Ma io non ho finito di leggere il libro che ci aveva segnato la maestra! E adesso... È arrivata questa! Ti meriti un quarto a te! Tu stai zitta! E adesso che cosa faccio? Soluzione trovata! Mi suggerite voi due, no? Ah, certo signorina! Tu non mi fai copiare i compiti di matematica? Io non ti suggerisco! Volevi la vita facile! No, no! No, no! Le ho scopo! Mi sono scopiare i compiti di matematica! Mi sono scopiare i compiti di matematica! Mi sono scopiare i compiti di matematica! Sì, 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 sì! Merenda! Merenda! Dai! Cosa avete portato voi da mangiare? Allora, io ho portato le mie patatine preferite! Oh, che buono che sono le patatine! Vediamo mia mamma cosa mi ha messo! Allora, mia mamma, ma che salame mi ha dato mia mamma! Eh, volete? Eh, adesso taglio una peccina di salame! Stai attenta a non tagliarti, è un coltello grosso! Sì, sì, hai ragione, sto attenta, sto attenta! E tu cos'hai da mangiare? Io? Ecco, mia mamma si è dimenticata di mettermi la merenda! Oh! Tieni! Le condividiamo, ok? Sì, dai! Dai, io ti do il salame, va bene? Vuoi la fettina di salame? Vecchio! E tu, Lu, la vuoi la fetta di salame? Sì, c'è! Tieni, tieni, mangia! Ma grazie, le patatine di formaggio! Le mettiamo qua! Che buone che sono! E adesso che abbiamo finito di mangiare, io ho voglia di giocare! Anch'io ho visto che ho ancora intervallo! Anch'io, dai, giochiamo, giochiamo! Sì, dai! Cosa avete voi? Io ho guardato i pop it! Oh, che belli! Le pavole, belle! Io invece, guarda, c'ho il ciccio bello! Ehi, due, due, tre, tutte assieme, coro! Se lo lanci, lo ritrovi nel video! Peccato che me l'abbia lanciato! Vabbè, siamo sempre in tempo! Mi presto il ciccio bello e io intanto ti do i miei pop it! Va bene, va bene! Fa lì però le coreccine! Sì, sì! Eh, me lo fai un attimo? Ok! Guarda, ti compi questa! Grazie! Che bello che sono! Che fame! Anch'io, guarda, non dirmelo! C'è un buco nello stomaco! Eh, vedami! Io non ho portato la merenda! Mi mi dite un po'! Ne riporto ogni cara! Mai! Ehi, i salami della nonna! Te lo scordi! Sì! Allora diventerete ciccione! Sarai bella tu! Ecco! Io adesso non so voi, ma io gioco! Idem! E poi guardate la mia bellissima! Perché si può togliere anche la coda da stile! E diventa con le gambe! Guardate! Nessuno c'è il gioco bello come il mio! Il ciccio bello! Ah, sì? No! Ridamelo! Che mi ti dai da mangiare! E poi muore! Muore? Mi sa che muore prima così! Guarda! Che tipo! Come sei con Dio! Ma la macchina! Ehi! Ehi! Lascia qui! Ehi! 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 Devo prendere quella cosa! Scusate! Ah! Sei nei giochi! Ah! No! Devo avvolare! Ma! Sapete che oggi facciamo ginnastica con la classe di Simone! Come sto? Ehi! Mi piacerai molto a Simone! Cos'è c'è? Cos'è c'è? Caccolo! Oh! La soletta! Grazie! 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 Mi sono pulita! Sì! 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 Che bella! Che bella! Adesso piacerai tanto alla tua craccia! Grazie! Sempre se non ho già una fidanzata! Ragazzi! Ma non sapete che più tardi con la classe di Simone facciamo ginnastica! Oh! Sono innamorata! Quando la vedo mi sciolgo! Come il pane col burro! Eh... Sì! Però... Allora... Non dineglielo che c'è! Cos'è? 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 Niente! Niente! Stavo dicendo che... Sei bellissima! Grazie! Per lavorare al cielo! Però... Sì! Lui è già fidanzato, no? Sì! Almeno da quello che credo! Ma con chi è fidanzato Simone? Eh... E poi non starà mai con una come te! Mi stai spazzando il cuore! Che schifo! Che schifo! Ma che è? E non toghi! Mastro! Mastro! Ma se ti c'è mai io non capisco! Mastro! Aia! Che antipatica che siete! Siete gelose perché a me piace Simone e a Simone cacciuglio! E per chi non avesse ancora lasciato il like lo lascia subito! E dopo di che iscrivetevi e cliccate la campanella di Inglom! Mi è piaciuto questo video? Amici con un amici! Besitos amiciosi! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao! Ops! 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 Ops!